Eccoci ancora una volta, siamo in contatto vocale con Walter White, che in verità si chiama Daniele e stiamo provando a fare questo gioco e vedere come regge la rete tra utilizzare la parte vocale di Whatsapp e quello che è la nostra partita. Siamo in fabbrica, andiamo a vedere i suoi punti. Ora, io ti insegno i miei, io mi metto qui nella porta e aspetto che arrivino. Però mi piace anche girare. No, anche a me, però al principio valuto sempre il potere della squadra avversaria. Se fai più... Allora, se sono tutti come... Se fai più le balle e cresco, vedi? Se sono tutti come Ceprenna, ti puoi mettere anche qui e li fai fuori velocemente tutto perché hanno bisogno di meno coci. in sé. E quindi poi ti puoi muovere, decidi muovere, ti vai a prendere anche tu gli argenti perché così sono soldi che ti fai. C'è un problema però. Quando inizi è il cazzo di... come si chiama? Di team è uno dei quelli belli forti, no? Cioè che praticamente te ne trovi un sacco così... Dai, vieni, ti copro io, prenditi. Quando ti trovi quattro giovanni che... Ti devi scaricare 8.000 caricatori nella testa per far sì che si facciano qualche dannismo. No, era qua dietro però, ti giuro, gli ho scaricato un caricatore e niente. Oh, mi si è bloccato. Oh, mi si è bloccato il mouse, non so. Comunque si, fa tantissimo la differenza tra quando usi il mirino e quando no. Molti meno colpi, anzi facciamo così, visto che tu stai da un lato io sto dall'altro. Così io copro di qua e tu copri dall'altro lato. E quello che corre per... qui di fronte a te. E poi c'è anche Brutus, quindi vediamo un certo punto qui. Reddog 599, l'ho già trovato altre volte quindi ce l'avrà con me, come mi vede mi vuole ammazzare. Questo è brutto di quando ti metti come cecchino, che poi quando ti azzeccano ti vogliono fare un sacco di danni. E facciamo che mi voglio mettere al mio posticino qua bellino. Questo mi piace. Aspetta che hanno messo anche qui una pistolina. Stanno arrivando quasi tutti da questo lato. Care. Infatti ti ha fatto il culo praticamente così. E' arrivato e ha detto toccati fuori. Oh. Ma Reddog perché non voleva arrivare? Non ha capito che ha oggi. Ah no, è che consiglia che mi sono spostato e c'era la pistolina, no? Eh... Cavolo. Pirlosini, mi hanno messo la... la trampa. Come direbbero. Eh sì, Reddog, cavolo, li devi mandare a un bel po' di forza, sennò non muore. Ma... Però... Se devo che ti faccio morire, ti faccio morire. Se non è che perché vieni di qua, no. Muori. Comunque si è rallentato, ti dico la verità. Almeno dal mio lato non... Io quando mi sono fatto un partito nella notte, una partita nella notte, stessa cosa. Cioè, alcune volte provavi a spararlo e era già vicino a te. Dici, come cazzo... A parte che per me alcune volte c'è chi usa anche tipo hacker, biac, e... Perché io noto anche che ci sono dei personaggi che quando entrano sempre inizia a laggare. Dici, come cazzo è possibile? Dici? Sì, io penso che sì. Eh... Spariamo uno e sparisce... Spariamo uno e sparisce... Sì, anche. Sì, anche. Spariamo. Poi... Poi, io una volta il clupo ho fatto senso a una partita dove c'era ... Si chiama lui... Non so se era proprio un problema del... ...del gioco... ...o letteralmente che sì qualcosa non puntava perché... Cioè, praticamente invisibile. Lui ti poteva ammazzare ma tu non lo vedevi. Quindi sono un po' quei letterari che... non so si vede perché il personaggio una mimetica differente dall'altro comunque vedi che è differente con l'audio però se lo mettono nel gioco poi diventa un pesante con un sacco perché ha finita la partita 1015 1515 punti danny 750 la rossa praticamente abbiamo fatto il doppio quasi del loro punto bravo walter wine sta iniziando a fare bei punti bravo bravo a parte che alcune volte per esempio io vedo angelo quattro morti e poi vedi che sono non so i quattro che ha fatto reddog non dici a cazzo va bene ragazzi anche questa volta abbiamo fatto una partita con il nostro amico walter white ci vediamo alla prossima partita